Musica Lunedì 21 ottobre 2013, buonasera e bentrovati con TRSP Informa e con il primo servizio di questa sera il Papa. Cattolici e luterani possono chiedere perdono per il male arrecato gli uni agli altri e per le colpe commesse davanti a Dio e insieme gioire per la nostalgia di unità che il Signore ha risvegliato nei nostri cuori e che ci fa guardare avanti con uno sguardo di speranza. Con queste parole Papa Francesco ha salutato i membri della Delegazione della Federazione Luterana Mondiale e i rappresentanti della Commissione per l'Unità Luterano-Cattolica ricevuti stamani in Vaticano. Il Pontefice ha poi sottolineato l'importanza di confrontarsi in dialogo sulla realtà storica della riforma, sulle sue conseguenze e sulle risposte che ad esse vanno date. Pur riconoscendo le difficoltà e le divergenze che sorgono in campo antropologico ed etico, Papa Francesco ha espresso comunque ottimismo per la comune volontà di dialogo e di comunione, ricordando che occorre aprirsi con generosità all'opera dello Spirito Santo. Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d'America per la presentazione delle lettere credenziali. Si tratta di Kenneth Francis Hackett, nato il 27 gennaio 1947, sposato con due figli. Il 66enne, formatosi presso il Boston College, ha ricoperto diversi ruoli presso il Catholic Relief Service, è stato vicepresidente di Caritas Internationalis e membro del Pontificio Consiglio Coruno. I beni che abbiamo ricevuto devono essere sfruttati per aiutare gli altri, per sostenere progetti capaci di far progredire il mondo e non essere accumulati con cupidigia. È la riflessione offerta oggi da Papa Francesco durante la Santa Messa, celebrata nella cappella della Domus Santa Marta. Nel corso dell'Omelia, commentando la parabola dell'uomo ricco, il Pontificio ha messo in guardia dall'attaccamento al denaro, un'avidità capace di distruggere il cuore dell'uomo e di danneggiare irrimediabilmente i rapporti familiari. Quello che fa male, la cupidigia nel mio rapporto con i soldi, avere di più, avere di più, avere di più, ti porta all'idolatria, ti distrugge il rapporto con gli altri. Non i soldi, ma l'atteggiamento, che si chiama cupidigia. Poi, anche questa cupidigia ti amalla, perché ti fa pensare soltanto tutto in funzione dei soldi. ti distrugge, ti amalla. E alla fine, questo è il più importante, la cupidigia è uno strumento dell'idolatria, perché va per la strada contraria a quella che ha fatto Dio con noi. San Paolo ci dice che Gesù Cristo, che era ricco, si è fatto povero per arricchirci noi. Quella è la strada di Dio, l'umilità, l'avassarsi per servire. Invece la cupidigia ti porta per la strada contraria. Tu, che sei un povero uomo, ti fai Dio per la vanità. E' l'idolatria. Rammificazioni anche nel territorio della provincia di Chieti per la rete del traffico internazionale di droga svelata dai carabinieri con l'operazione denominata Ellenica. Il procuratore distrettuale antimafia dell'Aquila Fausto Cardello e il sostituto procuratore Antonietta Picardi a conclusione di un'articolata e complessa attività di indagine delegata al raggruppamento operativo speciale dell'arma dei carabinieri hanno ottenuto dal GIP Giuseppe Romano Gargarella 71 ordinanze di custodia cautelare. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di beni. Nelle prime ore della mattinata di oggi è stata data esecuzione dai carabinieri del Rosso e dei comandi provinciali territorialmente competenti. La Direzione Nazionale Antimafia ha eseguito costantemente le complesse attività investigative per la rilevanza delle stesse profili spiccatamente transnazionali delle organizzazioni criminali indagate. Accertati nell'ambito della fitta attività rogatoriale sulla cui base è stata instaurata una proficua cooperazione giudiziaria con numerosi paesi di area balcanica interessati dalla filiera del narcotraffico. Gli arresti sono stati eseguiti in Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Sicilia nonché in Albania e Kosovo grazie al supporto assicurato dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia dove sette indagati sono stati raggiunti da provvedimenti di arresto a fini estradizionali. Altri sette indagati sono stati localizzati in Bosnia dove la normativa vigente non consente di procedere all'estradizione. E ancora cronaca con il prossimo servizio è stato arrestato un uomo di 40 anni questa mattina a Vasto. Daniele Ciccarone, 40 anni di Vasto, è stato arrestato questa mattina dagli agenti del commissariato di Vasto perché è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il quarantenne con precedenti di polizia per stupefacenti senza alcuna attività lavorativa era da tempo nel mirino degli uomini del commissariato proprio per l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina in Corso Italia all'altezza degli ex edifici scolastici a bordo di un'auto civetta i poliziotti hanno notato Daniele Ciccarone che vedendo i poliziotti cercava di nascondersi alla loro vista con fare indifferente. L'uomo ha cercato di nascondersi prima sotto i portici e poi all'interno del bar Palizzi. Gli agenti di polizia, dopo aver lasciato in sosta all'autovettura di servizio, hanno raggiunto Ciccarone per procedere ad un normale controllo. Fuori dal bar, dopo aver mostrato la tessera di riconoscimento, hanno reso noto le ragioni del controllo invitando l'uomo ad esibire un documento di identificazione per poi procedere nei suoi confronti alla perquisizione. Dal controllo effettuato sono state rinvenute nella tasca anteriore dei pantaloni due busse di cellofan trasparente contenenti, entrambi, sospetta sostanza stupefacente del tipo marihuana. Improvvisamente però l'uomo ha cominciato a dare in escandescenza, minacciando gli agenti e nel contempo provando a dileguarsi, strattonandoli e spingendoli con violenza. Gli agenti sono tuttavia riusciti a trattenere l'uomo e con l'ausilio di una seconda pattuglia di colleghi, fatta appositamente convergere sul luogo dove si trovavano, lo hanno condotto presso gli uffici del commissariato per le incompenze. In ufficio, a seguito di un più accurato controllo, Ciccarone è stato trovato in possesso della somma complessiva di 189,45 euro. La sostanza, pesata dal personale tecnico della locale polizia scientifica, risultava pari a grammi 14,8 per una busta e grammi 1,3 per l'altra. Gli agenti, inoltre, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori grammi di sospetta sostanza stupefacente. Uno degli operatori è stato costretto a far ricorso ai sanitari di turno del locale pronto soccorso per le lesioni arrecate da Ciccarone al momento del controllo in Corso Italia. L'agente è stato giudicato guaribile in sette giorni. Si era nascosto, rannicchiato, nell'armadio di casa dove vive con la madre, sperando di eludere il controllo dei carabinieri e poter così fuggire al nord da latitante. Tant'è vero che aveva preparato anche le valigie. Invece, gli scrupolosi controlli dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, che stavano verificando se Costantinzari, a 25 anni, romeno, stesse rispettando l'obbligo dei domiciliari, lo hanno beffato. Ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato per evasione. Zari era stato arrestato in una operazione congiunta dei carabinieri di San Benedetto del Tronto e di Alba Adriatica per tentato furto aggravato in un negozio della riviera Ascolana. Lui, insieme ad un complice, erano stati raggiunti da un ordine di carcerazione emesso dal GIP di Ascoli Piceno per concorso in furto aggravato, commesso sempre a San Benedetto del Tronto. Il provvedimento era stato notificato ed eseguito dai militari della compagnia di Alba Adriatica. L'ultimo colpo, prima dell'arresto, i due l'avevano messo a segno in via Abruzzi, a San Benedetto del Tronto, ai danni di un negozio di articoli sportivi. È stata archiviata dal GIP del Tribunale di Pescara, su richiesta del PM Valentina D'Agostino, La vicenda riguardante Silvana Picca, la traduttrice della provincia, scomparsa il 17 gennaio del 2012. La donna, che all'epoca aveva 57 anni, viveva a Pescara, in un appartamento di Viale Marconi che condivideva con due donne romene. Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto. Nella richiesta di archiviazione, il PM D'Agostino ritiene che non siano stati acquisiti elementi per ipotizzare la sussistenza di condotte delittuose ai danni di Silvana Picca. In considerazione delle condizioni di vita della Picca, con particolare riferimento alla grave patologia psichiatrica, di cui la stessa soffriva da anni, alla mancanza di stabili punti di riferimento affettivi, non si esclude che la donna, in un momento di sconforto, acuito dalla mancata assunzione dei farmaci, che invece doveva costantemente prendere, dice sempre il pubblico ministero, possa aver deciso di allontanarsi dalla sua abitazione per poi togliersi la vita, verosimilmente gettandosi in mare, come il ritrovamento della borsa nel tratto di costa molisana induce a far ritenere. Il PM ribadisce poi che le indagini complessivamente svolte, dichiarazioni rese dai familiari, dalla proprietaria dell'appartamento in cui viveva e dalle stesse coinquiline non hanno evidenziato elementi concreti che possano far ipotizzare che Silvana Pica sia stata vittima di azioni violente ad opera di terzi. Ed ora invece parliamo di una presunta truffa ai danni di un titolare di una carrozzeria di cupello, i particolari nel prossimo servizio. Una lettera di un avvocato che intima il pagamento di una cifra per l'acquisto di alcuni buoni vacanza mai acquistati. Il destinatario prima pensa ad un errore, poi ad uno scherzo, poi si convince sempre più che si tratti di una truffa. E la storia finisce in tribunale. Comincerà il 12 febbraio 2014 davanti al giudice ordinario di Roma la causa contro Vincenzo Antonio Lamoglia, 48 anni, di Vigiano, in provincia di Potenza, e Antonio Pedà, 53 anni, di Motta San Giovanni. I due sono accusati di tentata truffa in concorso. A denunciarli è stato Fernando Costantini, titolare di una carrozzeria di cupello. Il commerciante nel 2010 è stato vittima di una presunta truffa, come lui, nella stessa rete, sono caduti centinaia di altri commercianti. Qualcuno probabilmente ha pagato la cifra richiesta per evitare i contenziosi, ma Costantini, certo di non aver mai acquistato nulla e di non dover pagare alcunché, ha deciso di opporsi e di capire cosa ci fosse dietro. Così ha firmato la denuncia che il PM ha verificato con le indagini. Il 27 gennaio 2010, era un mercoledì, Costantini stava lavorando tranquillamente nella sua officina della zona artigianale di Cupello, quando ha ricevuto un fax di tre pagine. Il documento è firmato dall'avvocato Serafina Vaccaro di Roma. Il legale dice di operare per conto della FCS 2000 Viaggi di Roma e chiede il pagamento di 245 euro per l'acquisto di un kit Biglietti Buoni Vacanza. L'uomo si rifiuta di pagare, risponde all'avvocato, tramite raccomandata, spiegando di non aver mai ordinato nulla. A febbraio viene citato in giudizio davanti al giudice di pace, con l'offerta di rinunciare alla causa in cambio di un pagamento entro 15 giorni di 385 euro tramite vaglia postale. L'uomo dapprima non capisce, poi collega tutto ad una telefonata singolare ricevuta qualche mese prima. L'operatore, racconta Costantini, si qualificò come addetto di un'agenzia di sondaggi per la regione Abruzzo. Mi chiese il consenso per un'intervista per verificare la rispondenza dei dati aziendali di ditte presenti sul mercato, con particolare riferimento alle autocarrozzerie. L'operatore cominciò dunque a formulare alcune domande molto semplici, alle quali il commerciante avrebbe dovuto rispondere solo con un sì, se in caso di risposta affermativa. Da qui un triplo sì, per confermare nome e cognome, il numero di partita IVA e la titolarità del negozio. In realtà, quella telefonata sarebbe servita all'agenzia per avere conferma dei dati dell'uomo e spedirgli quattro buoni vacanza relativi a quattro settimane di soggiorno per nottamento, validi per quattro persone in una qualunque struttura alberghiera convenzionata, il tutto per 245 euro. Ma Costantini non cede e ad aprile si presenta alla stazione dei Carabinieri di Cupello e sporge la denuncia. La Regione Abruzzo ha avviato un progetto innovativo in collaborazione con l'Agenzia Nazionale della Sanità per il monitoraggio dei tempi di attesa per l'attività in tramuegna. Ad annunciarlo è il Commissario per la Sanità Gianni Chiodi che in questo modo intende affrontare il problema dei tempi di attesa a cui sono costretti i pazienti abruzzesi, sia per i ricoveri che per le prestazioni ambulatoriali. Il progetto dell'Abruzzo, ha spiegato il Commissario Chiodi, prevede che le 43 prestazioni obbligatorie secondo il Piano Nazionale del Governo delle liste di attesa vengano monitorate per singolo professionista che svolge la libera attività professionale. L'impostazione suggerita dall'Abruzzo ha trovato consenso anche in altre regioni come la Campania, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Sardegna, il Piemonte e la Puglia. In questo modo sarà possibile interrogare il sistema e avere a disposizione tutti i dati per il controllo. Ed ora parliamo ancora di sanità, ci spostiamo a Lanciano. Un incontro in cui sono emerse proposte soluzioni per migliorare l'assistenza dei pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati della provincia di Chieti. È quello che si è svolto nei giorni scorsi nella sede ASL di Via Spaventa a Lanciano. Hanno partecipato l'Associazione Regioni Abruzzo Emodializzati e Trapiantati, il direttore sanitario della ASL Pasquale Flacco, il direttore amministrativo ASL Stefano Spadano, i medici responsabili dei sette centri dialisi della provincia, di Lanciano, Vasto, Casoli, Atessa, Ortona, Guardia Grele e Chieti e i direttori sanitari ospedalieri. Un incontro chiesto più volte dall'Ared per presentare alcune criticità che vanno dalla mancanza di posti letto nel reparto di nefrologia per evitare il triste pellegrinaggio tra i reparti alla ricerca di un letto libero alla necessità di aumentare il numero di posti rene per idealizzati. Dalla richiesta di prestazioni specialistiche che si facciano entro tre giorni dalla richiesta del medico nefrologo alla creazione di una ricetta unica annuale per esami che si ripetono periodicamente nel corso dell'anno per evitare lunghe fili al CUP. Richieste accolte dalla direzione ASL che ha anche ascoltato una relazione puntuale sui sette centri dialisi provinciali che versano in condizioni a volte critiche per quanto riguarda la divisione degli ambienti, degli spazi che sono da riprogrammare, gli arredi, il funzionamento dei macchinari, la carenza di personale che ha carichi di lavoro notevoli. Ad esempio nei centri di Atessa e Casoli ci sono stanze ricavate alla buona e macchinari che funzionano ad Atessa a giorni alterni, a Casoli solo di mattina, tempi che potrebbero essere invece utilizzati visto che i malati aumentano. Si attende ora una risposta dalla ASL. La ormai prossima applicazione della Tares rischia di essere un colpo mortale per le imprese del nostro settore, in particolare per quelle del settore alimentare e pubblici esercizi. Aggravate dalla nuova imposta da coefficienti e a nostro avviso fuori misura. Le preoccupazioni della categoria più volte denunciate dall'inizio dell'anno si stanno materializzando nelle bollette Tares che sono cominciate ad arrivare e arriveranno nelle prossime settimane ai commercianti e agli imprenditori con aumenti molto gravi per alcune categorie. Lo denunciano il presidente provinciale di Confesercenti Chieti, Franco Menna, il direttore Lido Legnini e il responsabile dei pubblici esercizi, Simone Lembo. In un momento nel quale la contrazione dei consumi non accenna a fermarsi e le imprese fanno già fatica a resistere, ogni goccia rischia di far traboccare il vaso. Abbiamo chiesto subito un incontro urgente ai sindaci per affrontare la situazione che è certamente complicata ma insostenibile per molte piccole attività. Tanta sofferenza e sempre più manitese in cerca di aiuto. La povertà avanza nella diocesi frentana. Bollette che si accumulano, case senza luce e gas, tavole neanche apparecchiate, persone che cercano avanzi di passi nei bidoni dei rifiuti in strada, gente che non riesce a curarsi e soprattutto tanta sofferenza e sempre più manitese in cerca di aiuto. La povertà avanza nella diocesi frentana e sembra non arrestarsi. Quando ho preso le redini della diocesi nel 2011, ha dichiarato il vescovo della diocesi di Lanciano, Emilio Cipollone, c'erano 420 famiglie da assistere, tante. Ora siamo a 1500. Bastano queste parole dell'arcivescovo a far capire la situazione. È quadruplicato il numero delle famiglie che per l'80% sono frentane, italiane, non straniere, che ha bisogno di aiuto, cibo, vestiti, bollette e affitti da pagare, bisogno di un lavoro. Siamo in affanno perché la situazione critica riprende il vescovo. 1500 famiglie, erano 1200 a gennaio, sono tante, ma la Caritas cerca di sostenerle, di far fronte all'emergenza che ormai è cronica. La Caritas dà un aiuto non solo economico, che però non significa mettere dei soldi in mano alle persone, ma anche morale. Paghiamo le bollette in caso di necessità, diamo cibo e vestiti, ma c'è anche un cammino ben preciso dietro. Si ascoltano le persone, si osservano, per capire qual è il problema, perché accade anche che le famiglie non riescano a gestire bene le poche risorse che hanno. L'ascolto, poi, è fondamentale per riuscire ad accompagnare la famiglia alla rinascita, farla uscire dal disagio. Questo perché sappiamo che dietro le richieste di cibo ci sono i volti di grandi e piccini che vivono una situazione di sofferenza. Abbiamo poi dei nuovi progetti. Il primo è la realizzazione del Chiostro della Divina Providenza nella Chiesa di Sant'Agostino. Abbiamo ottenuto i permessi, ha detto il Vescovo, fatta la gara e siamo pronti per iniziare i lavori. Il Forum Permanente di Protezione Civile si è riunito in provincia a Pescara con la partecipazione della maggior parte delle amministrazioni comunali, dei rappresentanti del mondo del volontariato e del PEA, Psicologia Emergenza Abruzzo, per mettere a punto i corsi di formazione da attivare sul territorio. Sono state registrate cioè le esigenze dei singoli in termini di necessità formative, in modo da consentire la costruzione di competenze adeguate di protezione civile. I promotori del forum hanno messo a disposizione un ampio e organico pacchetto di corsi da attivare. Dopo l'illustrazione del pacchetto il team ha registrato riflessioni e sollecitazioni degli intervenuti ed è ora in grado di implementare il programma base finalizzandolo e arricchendolo delle necessarie modifiche evidenziate durante la discussione. Il Forum Permanente di Protezione Civile commenta l'assessore alla protezione civile della provincia Mario Lattanzio si conferma come luogo deputato alla programmazione pianificazione progettazione e ottimizzazione dei corsi oltre la messa a punto dei format stimolando la ricerca di finanziamenti e l'emissione di bandi. L'incontro di questa mattina nella sala del Gonfalone a Palazzo di Città a basto fra il sindaco Luciano Lapena il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte dell'assessore al turismo Vincenzo Sputore Bruno Di Lena in rappresentanza del coro polifonico Estonium e il presidente dell'assemblea polifonica della Provenza Robert Francescato ha avuto come oggetto la promozione di un turismo molto particolare che mira a diffondere e mettere in contatto la cultura musicale dei cori polifonici incontro questa mattina a Palazzo di Città per promuovere una nuova forma di turismo turismo musicale attraverso lo scambio di cori che arriveranno dalla Francia la Francia che ha ben 22.000 cori con tre indirizzi l'indirizzo classico quello sacro e poi quello popolare di questo abbiamo discusso questa mattina insieme ad una delegazione che è arrivata proprio dalla Provenza organizza festival non solo in tutta la Provenza ma al sud dei Pirenei in Portogallo in Spagna in particolare a Barcellona quindi c'è proprio un'apertura verso diverse località in Italia nell'Italia del sud ancora no in Italia hanno già organizzato e partecipato a dei festival in particolare a Milano in Toscana a Genova poi a Roma e quindi in occasione della nostra corale che è partita da Basta e è stata in Provenza ospite del loro festival hanno accettato di buon grado di venire da noi giù a Basta per organizzare eventualmente un incontro di questo tipo Ricordiamo anche che lo scopo di questi scambi con i cori italiani è proprio quello di promuovere piccoli centri far conoscere comuni molto piccoli metodo particolare quello sempre di far parlare di far cantare esibire sempre la corale della città che ospita della zona che ospita e poi la corale francese in modo che diventa e soprattutto un altro aspetto importante quello di di lui diceva di dare proprio lo spazio alle corali del posto chiedete anche un aiuto un sostegno al comune se una corale per esempio è costituita da 50 persone il comune che ospita deve solo occuparsi di una ventina di persone su 50 la prima volta gli altri pagheranno già in autonomia gli anni successivi neanche deve prendere a carico neanche quelle 20 persone questo è il Alvia domani mattina le prime prove scritte per il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato per il profilo di dirigente amministrativo al comune di Pescara sono 164 i candidati ammessi 4 gli ammessi con riserva 9 gli esclusi per assenza dei requisiti necessari per partecipare al concorso per invio delle domande fuori termine lo dice l'assessore al personale del comune di Pescara Marcello Antonelli spiegando che le prove scritte si concluderanno mercoledì e si svolgeranno negli spazi dell'aurum a partire dalle ore 8 e 30 con una vigilanza strettissima sui candidati proprio per garantire la massima trasparenza e regolarità delle procedure questa era l'ultima notizia per questa sera io vi ringrazio per l'attenzione vi lascio alle previsioni del tempo arrivederci un caloroso saluto a tutti gli amanti della meteo e in particolar modo del meteo.it previsioni per martedì 22 ottobre 2013 una nuova perturbazione raggiunge il nord ovest con nuove piogge entriamo subito nel dettaglio con la nostra grafica al nord il tempo risulterà più nuvoloso al nord ovest con piogge inizialmente deboli ma che diventano via via più forti entro sera fenomeni temporaleschi e violenti sulle Alpi tra il Piemonte e la Lombardia piogge moderate anche in Liguria qualche pioggia raggiunge anche il Friuli orientale nuvoloso altrove salvo qualche sporadico piovasco soleggiato in Emilia Romagna al centro assisteremo ad un momento delle nubi sull'alta Toscana dove potrebbe cadere qualche pioggia ma generalmente debole altrove bel tempo regioni meridionali ancora con tempo buono e cieli poco nuvolosi salvo passaggi noqui di nubi i venti continuano a soffiare dai quadranti meridionali su tutti i mari andiamo a vedere come saranno le temperature per questa giornata minime che non subiscono particolari variazioni se non locali lievi diminuzioni vedete 14-18 gradi raggiunti al nord 12-16 gradi al centro e fino a 21 gradi al sud di giorno nessuna variazione prevista 15-22 gradi al nord fino a 25 gradi al centro e 22-28 gradi al sud alla prossima